Salve a tutti ragazzi e bentornati qui su Quello e sul Joystick Oggi siamo qui con un video che vi informa che ci sarà, avrà inizio una nuova rubrica ragazzi Una nuova rubrica molto più potente delle altre che si chiamerà Le battute deprimenti Solo su Quello e sul Joystick ragazzi, non barzellette, attenzione, non voglio copiare assolutamente Quello e sul server Ma le battute deprimenti, per esempio Non ne ho la più pallida idea ragazzi Comunque il primo episodio esce stasera e tutti i lunedì, ogni lunedì da qui a Data Destinarsi Cominceranno gli episodi e ci saranno di battute deprimenti